Sono freschi, li preparati in poco tempo e questi pomodori ripieni di tonno sono facili facili. E dimenticavo che sono anche light, non hanno neanche maionese. Tagliate a metà i pomodorini e scavate la parte interna. Sistemateli poi in un piatto. Versate nel frullatore il tonno, le olive, i capperi e frullati in tutto. Versate poi in una ciotola la ricotta ed unite la salsa appena preparata. Mescolate bene in modo da ottenere una crema bene omogenea. Riempite ora i pomodorini aiutandovi con un cucchiaino o con una sac à poche. Decorate con un cappero o con una oliva. Li ponete in frigorifero per almeno 6 ore. Provatevi e fatemi sapere. Se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.